Questa è una fase molto delicata dove la comunicazione deve essere puntuale, precisa e non deve creare equivoci. Questa ordinanza crea delle equivoci. Intanzitutto non aggiunge niente al DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dà la possibilità ai ragazzi di decidere se andare o meno a scuola, ma in che mondo viviamo. È già data ai dirigenti la facoltà di poter organizzare le lezioni anche stando a casa. Parla di lavoro agile facendo il copia e incolla di esattamente ciò che prevede già il DPCM. In questo momento presentarsi alla stampa il Presidente della Regione che rappresenta tutti, al quale noi stiamo dando il massimo sostegno, la solidarietà e la collaborazione in questo momento difficile, non ci si può presentare con la maglietta della protezione civile, indossando la maglietta della protezione civile, quasi pensando che ci sia un dramma. Se c'è un dramma lo deve dire, se ci sono difficoltà bisogna dirle insieme e dobbiamo condividere questi percorsi. Non si può dare una comunicazione che crea confusione. Ai cittadini va data chiarezza e vanno dette le cose come stanno. Cominciamo a dire che c'è difficoltà nel riprendimento dei tamponi nei pronti soccorsi. Cominciamo a dire che non ci sono le mascherine, dobbiamo polemizzare? Assolutamente no. Quindi da parte nostra continua ad esserci questo aspetto collaborativo, ma nel merito, evitando di fare prima delle disposizioni e poi delle ordinanze che tutto hanno, tranne anche il carattere dell'ordinanza.